Sono stati accreditati gli stipendi di dicembre e tredicesima agli impiegati comunali di Porto Empedocle. Rimangono scoperti ottobre e novembre, ma tu ci hai chiamato per fare una precisazione. Sì, la precisazione che già abbiamo fatto nelle assemblee locali è quando siamo stati la settimana scorsa in prefettura. Diciamo che negli ultimi tempi si è creata una situazione quasi di guerra tra poveri, tra gli impiegati comunali e gli operatori ecologici, cosa che noi non vogliamo e che non accettiamo, perché tutti i lavoratori hanno diritto agli emolumenti alla fine del mese. Solo che è successo un fatto ingrescioso, siccome a seguito degli scioperi, a seguito dei cumuli che si erano creati nelle vie della città, con una procedura di raffreddamento il prefetto ha convocato solo la parte relativa al privato, le ditte che gestiscono e quindi ha fatto un accordo sul pagamento delle aspettanze alle ditte, sulle risorse che aveva in quel momento il comune, senza tenere conto dell'impiegato comunale, anche esso il creditore di almeno due mezzalità all'epoca dell'incontro e quindi ci siamo ritrovati ad essere vittime di questo sistema pur avendo anche noi un accordo in prefettura fatto già qualche tempo fa perché il nostro problema è atavico, noi è da anni che abbiamo quasi sempre dei ritardi nei pagamenti. Quindi per chiarire, voi chiedete che il problema venga affrontato in modo organico? Esatto, hai centrato questo, quel giorno in prefettura quando si è fatto questo accordo c'erano le parti sindacali private che rappresentavano le ditte e i lavoratori, gli operatori ecologici, c'era il prefetto, c'era l'amministrazione ma non c'era la rappresentanza a funzione pubblica, cioè il dipendente ha pure una sua rappresentanza che è quella locale RSU e quella provinciale. Noi vogliamo che quando succedono queste situazioni particolari, perché il Comune sarà ancora in deficienza economica anche nel 2019, che le parti vengono convocate contemporaneamente e si raggiunga un accordo che dia ossigeno a tutte le parti perché per dare privilegio una all'altra siamo tutti padri di famiglia con esigenze economiche che dobbiamo soddisfare. Allora, per correttezza ufficialmente non la poteva chiedere il sindaco perché la procedura di raffreddamento viene fatta da una parte sindacale, il prefetto poi decide la convocazione. Diciamo che il sindaco poteva dire, alla luce degli accordi che aveva fatto con i dipendenti precedentemente in altre procedure di raffreddamento, se magari la possibilità, l'avrebbe chiesta lei al prefetto, non poteva lei diciamo di imperio convocarci, però chiedere al prefetto, e il prefetto è una persona, l'abbiamo conosciuta abbastanza seria, non avrebbe avuto nessuna difficoltà ad avere diciamo al tavolo anche le altre parti e poi avrebbe preso magari la stessa decisione, però noi ci saremmo sentiti diciamo più protetti e anche diciamo difesi nella dignità. Rimangono ancora due mensilità come dicevamo e a questo punto cosa succede? Allora, qui la situazione è un pochettino particolare perché la regione siciliana sta cercando di stanziare, ha stanziato parti di fonte del proprio bilancio proprio per aiutare i comuni in dissesto, solo che ha fatto diciamo da madre e da madrigna, sta facendo da madre nella parte che riguarda Catania, Siracusa e diciamo i grossi centri dove avranno la fretta più grossa, ai piccoli comuni o medi come siamo noi toccheranno le briciole e non riusciremo a pagare ma forse uno o due mensilità. Diciamo che la regione in questo momento non sta proteggendo Portembedo, non sta proteggendo Casteltermini, non sta proteggendo Aragona, diciamo che noi siamo diventati purtroppo, forse perché non abbiamo tanto peso, figli di un dio minore. Quindi rimane lo stato di agitazione? No, diciamo che lo stato di agitazione è stato messo in stand by, cioè nel senso che siccome capiamo le esigenze dell'ente, quindi non è che ha soldi e non vuole pagare, non ha materialmente soldi, del resto deve pagare anche le spese correnti perché non è che un comune può essere stipendificio delle ditte che riguarda la spazzatura e i propri dipendenti, deve anche soddisfare le esigenze del cittadino. Diciamo che siamo in stand by, se arriveranno delle risorse e che la regione sta mandando prettamente per pagare queste mensilità retrate, quelle devono essere intoccabili e dovranno essere destinate ai lavoratori.